Un bonus ai cittadini del Friuli Venezia Giulia che decideranno di trascorrere le vacanze estive in regione. Lo annuncia l'assessore regionale al turismo Sergio Emidiobini, fornendo tutte le coordinate del nuovo strumento che si conta di mettere in campo per la prossima stagione. Abbiamo pensato di inserire all'interno del DDL Sviluppo Impresa di prossima approvazione questo voucher. Un voucher che va da un minimo di 80 euro, massimo di 320 euro per nucleo familiare, per stimolare, come diceva giustamente lei, i nostri corregionali a passare a trascorrere le vacanze in Friuli Venezia Giulia. Lo faremo già per questa estate. Il voucher vuole essere una forma di sostegno sia alle famiglie che agli albergatori e sarà attivato a partire dall'estate. Sarà poi il regolamento a chiarire in che misura il bonus sarà legato a una particolare fascia di reddito. E' certo che l'unità è quello di permettere l'utilizzo di questo strumento al maggior numero di persone, quindi non è che andremo, perché è inutile andare a mettere i sedi bassi. Alla fine è una manovra che effettisce poco. Cercheremo di farla utilizzare chiaramente e compatibilmente, metteremo a disposizione un maggior numero di persone. Noi abbiamo la necessità, dopo la gestione della fase acuta derivante dalla pandemia, di cominciare a pensare anche alla ripartenza, al rilancio dell'economia legata al mondo del turismo della nostra regione.